Con cui abbiamo proprio il suono, si chiama Che Tempi? Ed è il pezzo che ha dato l'idea a tutto l'album che abbiamo fatto, che si chiama Lavoro e Dignità. E nasce da una notizia, è in piccolo proprio sul giornale, che sulla di Bultina alcune persone di lunedì mattina sono andate al lavoro, hanno passato i loro badge, questo badge non funzionava, allora si sono rivolte agli addetti che gli hanno detto no, guardate, non vi preoccupate, non è il badge che siete stati licenziati e quindi questo badge non passa. Da questa cosa vergognosa è nata tutta l'idea di un concert album sul lavoro e la dignità. Che Tempi? C'è l'amico mio che gli hanno fatto, le lunedì mattina è andato a passare il badge, lui che funzionava, ha chiamato l'avvento, lui gli ha risposto, non è il bagnere in strato, è che t'hanno licenziato, è che t'hanno licenziato. C'è l'amico mio che gli hanno fatto, ci trovavano tutti, il bisogno di un canale, la società che ha fatto tutti, in una bagna di unione, a 1 a 1, che è da più da fuori, la niente è parte del nome, la niente è parte del nome, la niente è parte del nome, a 1 a 1, a 2, a 2, a 3, a 3. Non c'è l'amico mio che gli hanno fatto, allò non è statato, sento come se lascia Un'araco guarda, e a casa la apri E' un ventino, grazie e l'ulto Grazie e l'ulto, grazie e l'ulto Non abbiamo un risorto, a ferite, a ferite Dio mio, sei un'amorata Fesso una lega, sei un'amorata Poi andare via, un anno decimechio E' un anno dopo, non hai risposto L'olio che mi manio, l'olio che mi manio L'olio che mi manio, l'olio che mi manio L'olio che mi manio, l'olio che mi manio Una che lavorava, con la mia ragazza Finiti mesi per prova, erano tutta contenta Ma noi hanno rinnovato, e il contratto Gli hanno dei due mesi, non sei stata la bandesa Ma per due anni, senza contratto E' la stata la bandesa, non è risposto i dati Tanto è difficile, appassi E' un anno dopo, non è risposto i dati Tocca sempre contenti C'è 90 valore, siamo sempre tre meno Però almeno, il 37 Solti viviamo, i soldi viviamo Garazzo assata. E' un anno dopo, non è risposto i dati Abate di vita, abate di vita Abate di vita, abate di vita Abate di vita, abate di vita Amate di vita, abate di vita E' un anno dopo, non è risposto i dati Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.